In questa puntata di Senza Bavaglio vogliamo mostrarvi, vogliamo esporvi tutta la falsità del gruppo ArcelorMittal che ha rilevato l'Ilva. Ma basti considerare le belle parole, le favole, l'ipocrisia che emerge dalle parole dei rappresentanti di ArcelorMittal nell'annuale Media Day tenutosi appunto nel dicembre scorso a Parigi. Si è fatto un po' il quadro della situazione e ArcelorMittal, i vari rappresentanti, il presidente del Colosso in particolar modo dichiara il suo amore per Taranto, la volontà di mettere al centro di tutto i dipendenti e la città di Taranto sembrano quasi persone che fanno beneficenza, anzi sembrano dei filantropi. Quando poi il quadro è completamente diverso se consideriamo tutti gli atti criminali compiuti dal gruppo ArcelorMittal in altre parti del mondo. E infatti se noi consideriamo proprio le parole che ci provengono dal presidente, le leggo testualmente, il presidente Aditya Mittal, il quale dice abbiamo deciso di risolvere tutti gli errori del passato. La comunità ha sofferto per l'ambiente ed è importante che l'inquinamento scenda drasticamente, un corno dovremmo dire, perché ora la produzione aumenta dai 4,7 milioni di acciaio che si producevano con l'Ilva, c'è una previsione per il secondo trimestre del 2019 di portare a 6 milioni appunto di tonnellate la produzione di acciaio. E ancora vediamo le altre belle parole. Riteniamo Ilva un'opportunità eccezionale per loro, per i comodacci loro. Ci lavoriamo da cinque anni con un duplice interesse. L'Italia è il secondo mercato d'acciaio in Europa e gli stabilimenti italiani sono un ottimo asset con importanti capacità, tanto personale, buone strutture. E abbiamo un piano chiaro e un team di gestione forte. Ma la cosa che più vi farà ridere, anzi dovremmo dire farà piangere, quando sentiamo dire che vogliono mettere al centro proprio del loro interesse, del loro impegno appunto, la figura del dipendente, il rispetto dell'ambiente. Eccoci qui. La nostra filosofia è che ogni singolo dipendente abbia la priorità. Ma guardate un po', che santarelli che sono. Il nostro obiettivo è zero incidenti nei nostri stabilimenti e con un ambiente sicuro per tutti. Sembra davvero Babbo Natale. Ripeto, ho voluto farvi vedere proprio testualmente le espressioni usate dal gruppo, dal presidente, nonché dal CEO di ArcelorMittal, Mathieu Gell. Quindi una ristrutturazione completa di ILVA con investimenti per 2,4 miliardi fino al 2023, poi polveri zero sulla città e le piccole collaborazioni. E qui viene il giochetto, avviene il giochetto, l'inciuccio, perché questi cercano di comprare un po' tutti. Loro dicono ora noi, come dire, indoriamo la pillola, facciamo vedere, chiamiamo il territorio, allora provvederemo per esempio a ristrutturare cose che per loro costano pochissimo, per esempio sulla strada appunto per state i resti dell'acquedotto romano. Quanto costa per ArcelorMittal così ristrutturare, riportare diciamo in condizioni di splendore quelli che sono i resti dell'acquedotto romano. Non costa nulla, è come così offrire un caffè al parcheggiatore. O ancora lo avete visto questo periodo di Natale quando hanno offerto gratuitamente giri gratuiti sulla pista di patinaggio in piazza della Vittoria a Taranto ai bambini di età inferiori ai 10 anni. Quindi operazioni a costo zero che fanno vedere la bontà di ArcelorMittal. Per non parlare poi di come ArcelorMittal ha tentato di comprarsi, in parte c'è riuscito a comprarsi l'informazione, paginoni di pubblicità sui giornali, sulle televisioni, tanto stanno morendo di fame, l'editoria sta morendo di fame e allora dice ArcelorMittal do qualcosa e così in cambio ottengo il silenzio. Basti pensare che il gruppo ArcelorMittal ha detto in tutto io ho speso appena 10.000 euro di comunicazione. In pratica tutta l'editoria è stata acquistata da ArcelorMittal con quattro soldi. Come si vende l'informazione, signori cari? Con un piatto di lenticchie e in cambio il silenzio. Ma uno potrebbe dire ma tu ce l'hai con ArcelorMittal, ma tu sei marigno perché effettivamente ArcelorMittal vuole solo dialogare con la città, vuole porsi bene, vuole creare un dialogo, vuole compenetrarsi socialmente, culturalmente con la città di Taran. E ora vi faccio vedere. Pensate un po', in Francia, proprio per il colosso che ha acquisito l'ILVA è scoppiato uno scandalo. Infatti l'Agenzia Europea dell'Ambiente colloca lo stabilimento ArcelorMittal di Fossus-sur-Mer, in Francia, tra le installazioni industriali più inquinanti in Europa. Questo è ArcelorMittal, il lupo travestito da agnello. Anidride carbonica, questi sono i dati relativi all'inquinamento. Anidride carbonica 7,4 milioni di tonnellate, monossido di carbonio 91.300.000 tonnellate, ossidi di azoto 5.700 tonnellate, anidride solforosa 3.320 tonnellate, particelle fini 1.500 tonnellate, protossido di azoto 123 tonnellate, benzene 23,5 tonnellate, zinco 12,1 tonnellate, piombo 4,69 tonnellate. Questi sono i dati relativi allo stabilimento ArcelorMittal di Fossus-sur-Mer nelle bocche del Rodano, che inquina pesantemente. E' una stima nemmeno esaustiva delle emissioni per il solo 2016, fornisce una misura shock delle quantità di sostanze tossiche per l'ambiente e la salute emesse dal gigante dell'acciaio. Inoltre, ci sono centinaia di tonnellate di azoto o carbonio immesse nell'acqua e ben 28.837 tonnellate di rifiuti pericolosi in generale. Questa è la storia, questi sono i dati, questa è la cifra del carattere criminale con il quale il gruppo ArcelorMittal agisce, opera e ovviamente, ripeto, a Taranto si sono presentati così come gli angioletti e hanno cercato di comprare il consenso popolare. Magari l'ulteriore passo che faranno è una sponsorizzazione del Taranto Calcio e siccome il Tarantino molto spesso piega la testa e si vende, purtroppo, può darsi che il Tarantino, pur di vedere la squadra in serie B o in serie A, la squadra di calcio, magari tollererà anche un incremento drastico dell'inquinamento e magari si farà mettere una ciminiera in testa. Questo è ArcelorMittal, diffidate dalle sue promesse da criminale e dico criminale perché ci sono questi dati che parlano chiaro. Meditate cittadini di Taranto, meditate e soprattutto aprite gli occhi. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.